Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Lavoro. In apertura dunque la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 35 soggetti nell'ambito dell'operazione denominata Malapianta, ritenuti presunti appartenenti alle cosche di Andrangheta di Crotone. Aveva servito alle proprie attività criminali i villaggi turistici del litorale Ionico, tra le province di Crotone e Catanzaro, la cosca di Andrangheta di San Leonardo di Cutro, smantellata con l'operazione Malapianta e che ha portato all'esecuzione di 35 fermi e al sequestro di beni per 30 milioni di euro. La cosca, che faceva capo alle famiglie Mannolo, Trapasso e Zofreo e che vantava ramificazioni operative anche in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e proiezioni estere, da anni esercitava la propria influenza criminale sulle strutture turistiche della zona attraverso l'imposizione del pizzo, l'assunzione di lavoratori e anche costringendo gli operatori a fare riferimento a fornitori di beni e servizi a loro vicini. Gli enormi proventi illeciti della cosca, che agiva in rapporti di dipendenza funzionale dalla famiglia Grande Aracri e Gemone nella provincia, erano poi riciclati gli investimenti nei settori della ristorazione, dell'edilizia e delle stazioni di rifornimento al carburante. Oltre al dominio incontrastato del traffico di droga fra le province di Crotone e Catanzaro e Lusura, praticata nei confronti di diversi imprenditori anche nel nord Italia, la cosca di San Leonardo di Cutro aveva acquisito una fortissima capacità di controllo e monitoraggio del territorio per censire presenze sospette di veicoli o soggetti appartenenti alle forze dell'ordine. I componenti della consorteria criminale erano anche in grado di ottenere informazioni sulle operazioni di pulizia imminenti attraverso un'oscura rete di fonti e connivenze. Oltre a ciò è stato accertato come i medesimi effettuavano regolarmente attività di antibonifica per il rilevamento di microspio per eludere le attività di intercettazione. Noi oggi grazie a questa indagine abbiamo dimostrato che in realtà lì c'era e c'era fino a questa mattina un locale di indrangheta che controllava il respiro di quel territorio perché era intervenuta nella parte vitale di un territorio, c'era parte economica, riusciva a controllare tutte le attività turistiche, alberghieri che sono la principale attività di quel territorio, ad imporre non solo le estorsioni, alcuni di queste hanno pagato fino a 700-800 mila euro nel corso degli ultimi anni, ma addirittura a imporre questa nuova forma di estorsione che esiste purtroppo da un po' di anni dove dei locali di indrangheta, dopo dei capi mafia, impongono l'acquisto di prodotti. Quindi è un modo più difficile sul piano probatorio per noi dimostrare questa violenza, questi reati. Si tratta naturalmente di un'organizzazione criminale abbastanza radicata sul territorio, e quindi la guardia di finanza che con la procura distrittuale di Catanzaro abbiamo seguito passo passo l'enorme mole di prove che il comando provinciale di Crotone, ovviamente supportato dal comando regione, dall'Oscico di Roma, che è la Chiesa di Roma, ha supportato per poter oggi fermare 35 persone. Il livello probatorio è altissimo, perché veramente mai come questa volta o come poche volte si è riusciti ad arrivare a questo livello probatorio. Cioè proprio qua non stiamo parlando di gravi indizi di coproprio, stiamo parlando di prove. Ancora cronaca avrebbero provocato il fallimento di una loro società mediante distrazione e dissipazione di beni attraverso un sistema di acquisti e vendite ed altre aziende riconducibili allo stesso gruppo. Tre misure cautelari, due domiciliari e un obbligo di presentazione sono state eseguite dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza con i finanzieri della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma hanno eseguito tre misure cautelari personali nei confronti di tre imprenditori cosentini operanti nel settore del commercio all'ingrosse al minuto di abbigliamento con l'accusa di bancarotta fraudolenta. I finanzieri hanno anche notificato, sempre ai tre imprenditori, anche l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali. Il tutto nasce da una serie di indagini di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ed eseguito attraverso complesse e minuziose ricostruzioni contabili, ed è emerso che gli indagati destinatari delle misure cautelari personali hanno posto in essere nel tempo più fatti e reiterate condotte di bancarotta fraudolenta, provocando il fallimento della società da loro gestita mediante la distrazione e dissipazione dei beni della stessa realizzate attraverso plurimi negozi giuridici privi di controprestazione per la fallita, posti in essere con altre società facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale. In particolare la società in questione, a fronte di significativi acquisti di merce destinata alla rivendita, procedeva con plurimi negozi giuridici alla vendita della merce stessa, società riconducibili al medesimo gruppo familiare, in assenza di giustificazione economica e di movimentazione finanziaria. Tali condotte venivano inoltre aggravate dalla sottrazione e dalla distruzione dei libri e delle altre scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, nonché con l'omissione sistematica del versamento dei contributi previdenziali e delle imposte dovute fin dalla costituzione della società, tanto da maturare un debito verso l'erario di oltre 2 milioni e mezzo di euro e un passivo fallimentare complessivo pari quasi a 3 milioni e mezzo di euro. E ritorniamo a parlare del neonato morto all'ospedale di Cosenza ed ascoltiamo le precisazioni dell'azienda ospedaliera. In merito alla morte del neonato deceduto dopo il parto all'ospedale di Cosenza, stretto giro, arriva la replica dell'azienda ospedaliera a firma del direttore del Dipartimento Materno Infantile Gianfranco Scarpelli, il quale dichiara come contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa il neonato venuto alla luce lo scorso mercoledì 22 maggio presso l'UOC di Ostreticia e Ginecologia dell'ospedale Annunziata non ha subito alcun trauma o caduta accidentale. La presenza di echimosi sono state la conseguenza delle manovre resesi necessarie per agevolare l'espulsione del feto. Il neonato prosegue la nota dalla pesa di 4 kg e 780 grammi è nato da parto spontaneo dopo travaglio fisiologico da madre con grave obesità. Sin dai primi momenti il neonato, trasferito immediatamente nella UOC di Neonatologia e TIN ha manifestato sintomi di patologie gravi e importanti dovuti all'iperininsulinismo materno con grave ipoglicemia, cardiopatia ipertrofica, consegni di scompenso cardiaco, grave insufficienza renale acuta e indici di floglossi aumentati. Nonostante l'erogazione di tutte le cure, fa sapere ancora il direttore del Dipartimento Materno Infantile, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali non è stato possibile correggere e risolvere il grave quadro clinico che presentava compromissione multi-organo. Particolarmente grave poi lo scompenso cardiaco è la grave epatosplenomegalia. Il quadro clinico di estrema gravità in cui versava il neonato è conseguenza della condizione gravidica antecedente al parto e dello stato di salute della mamma. Nel periodo di ricovero, conclude la nota, avvenuta la sera prima del parto, non si sono manifestati segni e sintomi di allarme che avrebbero dovuto indurre i sanitari ad adottare un comportamento diverso da quello poi assunto. Nell'eventuale parto, contaglio cesareo, avrebbe potuto modificare il quadro clinico del neonato che si è presentato sin da subito grave e di difficile soluzione. Ha ricevuto circa 20.000 preferenze alle elezioni europee e domenica Fulvia Caligiuri, ma la candidata di Forza Italia attende ancora un posto in Senato. Sull'asse Bruxelles-Lazio-Calabria si gioca una partita importante per l'assegnazione di un seggio, ma non si parla di questa tornata elettorale ma della precedente, ovvero le politiche del marzo 2018, perché ancora si attende che la Giunta per l'autorizzazione del Senato prende atto è l'errore praticamente riconosciuto che ha portato in Calabria all'assegnazione di un posto a Palazzo Madama alla Lega, che invece aspettava Forza Italia. Ad essere eletto è stato Matteo Salvini, ad attendere il seggio invece Fulvia Caligiuri, che intanto si è candidata alle europee, ottenendo 20.000 preferenze circa, ma non riuscendo comunque ad essere eletta. Ora, prima la Giunta, poi l'Aula, dovranno pronunciarsi ed eventualmente a perdere il seggio sarebbe Salvini, che comunque entrerebbe in Senato, prendendo il posto nel Lazio di Laura Bonfrisco. La buona notizia per la Caligiuri è che la Bonfrisco è stata eletta in Parlamento europeo, ma ciò ovviamente non significa nulla e non comporta un ingresso alla Caligiuri, per il quale comunque si attendono notizie in merito. E cambiamo decisamente argomento sulla palesata soppressione delle coppie di treni di Intercity, via Ioni, che arriva alla smentita dell'Associazione Ferrovie della Calabria. Anche nel piccolo della nostra Calabria, regione già di per sé abbastanza arrabbiata per l'innegabile arretratezza in molti settori, dalla sanità ai trasporti, la classica fake news di stampo negativo non può che farne enorme presa in una popolazione giustamente insoddisfatta e scoraggiata. E' lapidario Roberto Galati, presidente dell'Associazione Ferrovie in Calabria, riguardo alla falsa notizia in cui veniva annunciata la soppressione dal 9 giugno delle due coppie di treni Intercity tra Reggio Calabria Centrale e Taranto via Ionica. Il riferimento all'annuncio a mezzo stampa della Cisle Firt Cisle Calabria di una fantomatica, come la definisce lui, soppressione, è ripresa a stretto giro da altre associazioni di categoria e di alcuni politici, indignati dall'ennesimo soppruso. E' precisa, oltre a non venire soppresse, finalmente le due coppie di Intercity vengono fortemente velocizzate, con il taglio dei tempi di percorrenza tra le città pugliese e lo stretto di circa un'ora. E' per questo motivo che ancora le nuove tracce orarie, a cui potrebbe essere imputabile l'errore, non sono interamente disponibili sui canali di ricerca orario di Trenitalia. Per completezza, inoltre, comunichiamo che fino al giorno 24 giugno le due coppie di treni Intercity continueranno a essere limitate a Siberi per consentire il completamento dei lavori di adeguamento della sagoma della Galleria di Roseto Capospulico. L'Associazione Ferrovie in Calabria esprime dunque assoluta delusione per quanto accaduto. La lunga nota continua con le precisazioni del caso, evidenziando le diverse proposte portate avanti, senza differenze di colori politici, dal Ministro dei Trasporti Danilo Tolinelli all'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, ai diversi consiglieri regionali. Basti pensare alla sostituzione delle vecchie dittorine con carrozze adeguate alla categoria di convogli. Unici grandi assenti i sindacati, che a quanto pare, con le loro fake news, anche se involontari, addirittura remono in direzione opposta. Rispetto alla nostra lunga e complessa battaglia nel rilancio del trasporto su ferro in Calabria, che mira a sensibilizzare, attraverso proposte concrete, conoscenza degli aspetti tecnici e delle criticità cittadine e classico-politiche. Così il Presidente dell'Associazione Ferrovie chiude il comunicato. E si è svolto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valenza il passaggio delle consegne tra il Comandante Reggente Antonino Casella e Gian Piero Rizzo che ha assunto l'incarico di nuovo comandante provinciale. Cambio della guardia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valenza dove dal febbraio di quest'anno Antonino Casella, compandante provinciale di Crotone, aveva ricevuto l'incarico dal Ministero degli Interni di assumere in attesa della nomina del nuovo comandante la reggenza del locale Comando Provinciale mantenendo comunque la titolarità di quello di Crotone. Finalmente la nomina è stata fatta e il nuovo comandante Gian Piero Rizzo si è insediato nella caserma vivonese. Cosentino di Nascita è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 1994 prestando servizio presso il Comando Provinciale di Torino, l'ex Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno in Roma, il Comando Provinciale di Crotone, quello di Cosenza, l'Ufficio degli Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Quindi nel 2016 assume l'incarico di dirigente referente del Soccorso Pubblico ricoprendo anche il ruolo di coordinatore delle attività dell'Ufficio Antincendio Boschivo e di comandante del Comando Operativo Avanzato della colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco Calabria. Infine, ultimo suo incarico, comandante provinciale di Taranto. Ma quello di Gian Piero Rizzo è una sorta di ritorno a Vibo Valenze in quanto aveva già dato una mano durante la tragica alluvione del 2006 che mise in ginocchio tutte le marinate. Sì, in effetti è un onore essere qui con voi e, diciamo, avere questa opportunità di dare un mio contributo alla provincia di Vibo Valenze che, pur essendo Cosentino Calabrese, non conosco in dettaglio e solo ho avuto modo di vedere in un tragico evento dell'alluvione del 2006 in cui ho partecipato per diversi giorni qui con voi a dare una mano alla popolazione, ai nostri colleghi e a tutti quanti noi Vigili del Fuoco che siamo intervenuti in massa e abbiamo fatto grossi interventi qui sulla nostra provincia. Tra i vari comandi che le avevano prospettato ha scelto Vibo Valenze. Sì, avevo l'opportunità di scegliere qualche altro comando anche del nord però ho sentito il dovere da Calabrese di poter dare un mio contributo a questa terra che ne ha molto bisogno ho già avuto modo di vedere la complessità e le carenze purtroppo che esistono e che dobbiamo fare in tutti i modi dobbiamo fare in tutti i modi di eliminare e comunque di migliorare e di incrementare la nostra efficienza. È stato presentato dalla sezione vivonese Conte d'Apice dell'Accademia Templare e dal club di territorio di Lamezza Terme del Touring Club la seconda fatica letteraria di Giuseppe Corallini un romanzo che però è anche un saggio dove il simbolismo la fa da padrona. Interessante iniziativa della sezione Conte d'Apice di Vibo Valencia dell'Accademia Templare centro studi che approfondisce le tematiche storiche letterarie che si caratterizzano anche e soprattutto per gli aspetti esoterici e leggendari. Insieme al club del territorio di Lamezza Terme del Touring club italiano guidato da Giovanni Bianco l'Accademia Templare ha presentato l'ultimo lavoro di Giuseppe Corallini avvocato e giornalista pubblicista che da qualche anno si dedica al romanzo. L'Eguisia il nuovo romanzo di Giuseppe Corallini è il racconto di Ismael che vive l'avventura più bella che un uomo possa intraprendere la ricerca di un vero amore un sogno che si tramuta in realtà nella vita terrena solo per pochi eletti per coloro che sanno guardare sempre solo al loro cuore per l'autore l'amore è come un'iniziazione un segreto che viene svelato ad uno ma che non sarà mai trasmissibile ad altri per mezzo del verbo mentre l'istinto lo conduce appunto all'Evisia un'isola nel bel mezzo del Mediterraneo che lo aiuta nella ricerca dell'amata una donna compresa per mezzo del cuore. Il significato del libro è soprattutto un concetto di unione che va oltre la coppia e sfrutta una storia d'amore per raccontare l'unione che può esserci tra popoli anche tra un uomo e una donna ma anche tra le persone l'unione praticamente tra le nazioni è un libro che va inteso nel senso di amore nel senso più nobile del termine quindi va oltre quello che può essere l'amore di una coppia quindi va inteso in questo modo il percorso iniziatico che descrivo nel libro tramite misteri mitraici tende a voler sottolineare soprattutto il concetto di condivisione che ci deve essere nella coppia il protagonista l'uomo Ismael vuole che praticamente la sua compagna Ines condivida il suo stesso percorso iniziatico quindi quello che esprime in quel caso il concetto del percorso iniziatico che è legato a questo il concetto di condivisione Al liceo artistico di Castrovillari un tutor di eccellenza affiancato i ragazzi in un progetto di alternanza scuola-lavoro si tratta del maestro Orafo Michele Affidato Il liceo artistico Alfano di Castrovillari ha una guida d'eccellenza si tratta del maestro Orafo Michele Affidato che ha affiancato i ragazzi delle classi di orificerie e metalli per il progetto di alternanza scuola-lavoro non poteva esserci maestro migliore per un istituto come quello di Castrovillari i cui studenti visiteranno e lavoreranno fianco a fianco direttamente nel laboratorio di Affidato a Crotone come ultimo appuntamento del progetto Ognuno di noi ha fatto dei progetti naturalmente sono stati scelti da lui quelli che erano fattibili da realizzare ed è ora qui in laboratorio abbiamo iniziato a fare i vari prototipi far toccare con mano ai ragazzi quali sono le problematiche anche l'approccio alla produzione in maniera tale da preannunziare questo passaggio futuro al mondo del lavoro naturalmente abbiamo scelto di farlo con un personaggio di eccellenza è un progetto importante i ragazzi ovviamente sono molto attenti dobbiamo essere noi ecco coloro che devono insegnare gli antichi saperi visto che noi li abbiamo appresi è molto importante che possiamo anche trasportarli ai ragazzi è quello che io sto facendo con la mia azienda venendo proprio qui nell'istituto di Castrovillari a portare anche il mio contributo e poter trasmettere ai ragazzi la realizzazione dei gioelli interamente a mano orafo di fama internazionale Michele Affidato firma da anni i premi del il festival di Sanremo è definito l'orafo dei papi grazie alle tante creazioni per il Vaticano e la sua ultima collaborazione ha incantato le centinaia di visitatori della mostra di gioielli curata da Teresa Luongo ed allestita in occasione della festa della bandiera di Morano Calabro è il secondo anno consecutivo che partecipiamo lo scorso anno con un'esposizione ma questa è anche la possibilità di poter fare indossare i nostri gioielli questo è molto bello che avvengono questi eventi un evento che poi è una rivacazione storica che avviene nella cittadina di Morano e questo è molto bello che si conservano queste grandi tradizioni e per noi è veramente un grande onore poter contribuire a valorizzare di più quello che è stato questo bellissimo evento e anche per oggi è tutto io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it grazie buona serata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti